Un luogo tetro, selvaggio e dimenticato da secoli. Un angolo di mondo che mai essere umano aveva osato violare. Dove si c'erano spaventosi misteri. Nelle autorità hanno posto l'area sotto sequestra. Certi misteri è meglio che rimangano sepolti per sempre. Ma dietro gli alti cancelli la caccia, con i team. Solo pochissimi temerari decidono di sfidare la propria sorte nel tentativo di catturare il dominatore della palude. Ma pagheranno a caro prezzo la loro audacia. La sua parte è stata iniziata a caro prezzo la caccia, con i team. La creatura ha risparmiato i temerari che hanno avuto la sfrontatezza di affrontarla E ora il loro compito è raccontare al mondo che esistono misteri che non devono mai più essere rispettati